Si è aperta da pochi giorni un'altra complessissima avvertenza aziendale, quella di Selex, una avvertenza che ha colpito la città, la colpisce, perché oltre 300 esuberi dichiarati rappresentano una cifra non accettabile per una città che patisce come tutto il paese una crisi economica, una crisi industriale di proporzioni inaudite. Pochi mesi fa è stato presentato un piano di riorganizzazione del gruppo che esplicitamente parlava di limitati effetti negativi sui dipendenti del gruppo nella sede di Genova. 300 esuberi non sono degli effetti limitati, sono un colpo pesante. Noi chiediamo a Selex, a Finmeccanica e soprattutto al governo di intervenire perché questa impresa abbia una prospettiva all'interno di un disegno chiaro e coerente di politica industriale. Un disegno chiaro e coerente di politica industriale che è mancato negli ultimi anni e che una città come Genova, in cui il patrimonio industriale rappresenta una parte fondamentale del tessuto economico cittadino e una ricchezza del paese, rivendica con forza. Per questo è necessaria in ogni caso una mobilitazione ampia della città, degli imprenditori, delle organizzazioni sindacali e di tutti i cittadini. Le istituzioni saranno sempre presenti e saranno sempre alla testa di questo movimento che si deve sviluppare. È l'unica condizione assolutamente necessaria perché la vertenza abbia una soluzione positiva.